Buongiorno ragazzi, nuovo episodio di Resident Evil 5, siamo su PS4, proseguiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero in un posto di merda. Sotto prima c'è qualcos'altro perché io là so che cosa mi aspetta. Io lo so lì cosa mi aspetta. Vabbè, andiamo va, tanto raga, ci tocca. Eccoci qua. Oh cazzo. Eh, più o meno. No, vabbè, che cazzo è? No, vabbè. Vabbè, che cazzo. Vabbè, che cazzo. Vabbè. coraccio che ci aiuta! Aia! Quello deve fare male! Sta a fungere di minchia ragazzi! Oh yeah! La banda dei nicuracci! Ebbè ragazzi! Ottimo! Oh! Quasi, eh? Mecchio! Abba! Oh! Non ti preoccupi! E con questo ragazzi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio! Ciao raga!